Polipropilene isotattico, sembra un nome straordinariamente astruso, addirittura bizzarro, eppure sta nella vita di ciascuno di noi, è il nome scientifico di Moplen, ossia del progenitore delle plastiche che sono nelle case di tutti e che appartengono alla nostra dimensione più domestica. Il polipropilene isotattico è letteralmente un'invenzione di Natta, negli anni 50 Natta è alla testa di un gruppo di giovani ricercatori, qui c'è uno dei suoi elementi caratteristici, cioè la capacità di guidare gruppi complessi, di essere un leader autentico, è la testa di questo gruppo che fa ricerca pura, ma Natta è anche un uomo capace di conciliare e di linkare ricerca pura e ricerca applicata, è un uomo capace di andare a cercare la relazione con le industrie, lavora per Pirelli, lavora per Montecatini, sviluppa 4 mila brevetti, è un uomo di straordinario genio, a tutto tondo un genio, un vero protagonista di un tempo che abbiamo definito il miracolo italiano, un simbolo di questo miracolo italiano, di questo enorme, straordinario, collettivo riscatto che ha avuto però alcuni indimenticabili campioni, Natta è uno di questi.